avvenne nel mare un grande sconvolgimento ma gesù dormiva lo svegliarono salvaci signore siamo perduti e gli disse perché avete paura gente di poca fede matteo 8 versi da 23 a 27 mentre gesù si trova con i suoi discepoli sulla barca in mezzo al lago di tiperiade improvvisamente una burrasca li travolge e li mette in pericolo egli però stanco continua a dormire come se nulla fosse impauriti i discepoli svegliano gesù si noti la dinamica sonno trattino risveglio che allude a quella pasquale di morte trattino resurrezione chiedendogli salvaci signore siamo perduti essi sembrano non comprendere che la grande rivelazione proprio il suo stare con loro non è altrove ma condivide in tutto la loro precarietà e angoscia di più il suo sono nell'infuriare della tempesta e sacramento della debolezza salvifica di dio nella sapiente stoltezza della croce prima corinzi 1 versi da 18 a 25 ed ecco che proprio nella debolezza di quell'uomo appare la potenza di dio gesù si destra e intima al vento di placarsi alla stessa autorità di dio salmo 107 versi da 28 a 30 e il suo gesto prefigura la potenza del risorto in piedi e vincitore sulla morte gesto e parola efficaci contengono la logica dell'incarnazione del mistero pasquale nell'umanità debole e mortale di gesù si manifesta la potenza di dio più forte dalla morte ma il vertice di questo brano è la domanda apposta da gesù perché avete paura gente di poca fede domanda rivolta ancora a noi oggi e qui siamo chiamati a rispondere con la nostra vita magari accogliendo la reazione di quanti lo circondano i quali pieni di stupore esclamano chi è mai costui che perfino i venti e il mare li obbediscono e il mare li obbediscono